aspetta che prendo no non si può ho le mie cose e che cazzo dillo prima che rimanevo a casa sta zitto idiota prova a dire un'altra cosa del genere non lo rivedrai più e quindi e quindi ci facciamo un paio di coccole mica è rimanuto solo per quello no? è certo che ero voluto solo per quello altrimenti venne andavo a carcetta ma porra ma figurati io sto benissimo anche se non lo facciamo no ti pare che ero voluto solo per quello l'importante è che stiamo insieme come sapevo mi accompagni a fare shopping no già fregata da nuovo lascia la scappa cerchiamo di non farci fregare di qualcosa di intelligente no oggi proprio non posso perché no di nuovo il calcetto no nessun calcetto e allora perché vabbè ti dillo che per loro funziona sempre non sono un po avventato proviamo ho le mie cose ciao